Tale e quale show 2022 29 ottobre 2022 mezzanotte e 11 tale e quale show 2022, Antonino è il vincitore della quinta puntata, la classifica aggiornata Antonino ha conquistato la vetta della classifica provvisoria della quinta puntata di tale e quale show imitando Loredana Bertè. Quella di Paola Antoni, Cirilli e Biagio Izzo, ospite d'eccezione, è stata l'imitazione che ha convinto meno i giudici, sono loro gli ultimi in classifica. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su tale e quale show 2022 attiva agli aggiornamenti la quinta puntata di tale e quale show, in onda venerdì 28 ottobre su Rai 1, ha visto sul podio Antonino che ha conquistato i giudici imitando Loredana Bertè. Nello studio Fabrizio Frizzi di Roma, Carlo Conti ha presentato il suo show accompagnato da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e Francesca Manzini, quarto giudice d'eccezione della serata che ha vestito i panni di Mara Venier. Gli undici concorrenti si sono immedesimati, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, nei personaggi della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Oltre Alessandra Mussolini che si è decisa a imitare la zia Sofia Loren, a conquistare gli applausi del pubblico anche la performance di Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Biagio Izzo, quest'ultimo ospite della serata per completare il trio. Chi ha vinto la quinta puntata? La classifica provvisoria a conquistare la vetta della classifica della quinta puntata di tale e quale show è Antonio, che ha imitato Loredana Bertè, con 65 punti. Questa la classifica finale della serata, Antonino Rosalinda Cannavoi Gilles Rocca Elena Ballerini Claudio Lauretta Andrea Dianetti Valentina Persia Valentina Marini e Alessandra Mussolini Samira Lui Paolantoni e Cirilli Le esibizioni della prossima puntata al termine della quinta serata Carlo Conti ha mostrato ai concorrenti quali saranno i prossimi artisti della musica nazionale e internazionale, che dovranno imitare Valentina Persia Pippo Franco Rosalinda Cannavoa Anna Ox Antonino Spadaccino Bruno Mars Samira Lui Caoma Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Amedeo Mindy e Mietta Elena Ballerini Maria Callas Alessandra Mussolini Sabrina Salerno e Gio Squillo Gilles Rocca Francesco Renga Andrea Dianetti Irama Valeria Marini Madonna Claudio Lauretta Bobbi Solo